Questo è il canale di Lavale Makeup, non ti scorda! Ciao ragazze, ebbene sì, siamo di nuovo Kiwi, 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 Yeah baby! Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video! Questo è il video di Amati del Mese in collaborazione con la mia carissima amica Hilaria, XHilariHenryX. Vi lascio il link del suo video nell'info box. Passiamo subito alle questions, alle domande. Numero 1, il vestito preferito del mese. Come sapete non ho i vestiti perché non li indosso i vestiti d'inverno, li preferisco d'estate. Ma bensì vi faccio vedere una camicia che indosso tantissimo, è una camicia di jeans, questa qui di Bershka. L'ho indossata tantissimo nel mese di febbraio e quindi ve li faccio vedere. Questa qua, molto carina, scambiata, diciamo dallo stile un po' vintage, mi piace tanto. Ci ho fatto anche un outfit con questo. Se siete curiosi dell'outfit vi posto il link nell'info box del mio blog che oltre ad aver cambiato le veste ha cambiato anche il nome. Si chiama confessionsofaburinmaniac.blogspot.com. Spero che vi possa piacere. Quindi nell'info box vedrete tutto. La seconda domanda, vediamo un po' la seconda domanda, la sto vedendo con l'iPad e c'è la bellissima Ilaria qui impressa nel video precedente. Allora, accessorio preferito del mese? Allora, è la mia borsa che ho acquistato proprio nel mese di febbraio. È stato preferito perché sono d'amore a prima vista. Questa borsa bellissima di Honey Deep. Molto molto bella e pagata davvero poco. Costava 40 euro e l'ho pagata 10 euro. Cioè, è bellissimo. Poi, sempre in saldo perché faccio sempre i affai. Numero 3, fragranza preferita del mese. La mia preferita, cioè veramente di sempre, è questa. La Mist Dior Cherie, di Dior. Infatti è quasi finita, però... Vabbè, sto cercando di centellinare un po'. Ma è fantastico, mi piace tantissimo. Andatela a usare se potete. Poi, allora, ho 4. Bijou preferito del mese. È sempre un nuovo acquisto. L'ho fatto nel mese di febbraio, un affare. Questo orologio, vi faccio vedere. Aspetta, così. Bellissimo. È di Bijou Brigitte. Questo qui. E costava intorno alle 40 euro. E io l'ho pagato... Con uno sconto pazzesco. L'ho pagato solo 3,50 euro. Cioè, sta... E c'ho anche la garanzia di 2 anni. Un affare incredibile. E potete ancora trovarlo all'interno di Bijou Brigitte. Perché oltre agli sconti, diciamo, il 50%, il 70% che ha sugli oggetti, sui gioielli, ha un altro 50% di sconto. Quindi, me ne fa pochissimo. Poi, sei film o telefilm preferito del mese. Il film preferito del mese è stato Carrie. Carrie, la figlia di Satana. L'ho visto con un ragazzo ed è bellissimo. È fatto molto bene. Non fa assolutamente paura. Niente. Zero. Non fa schifo. Nel senso perché a volte ci sono delle scene sempre un po' così. L'ultima scena è il boom finale, però non fa paura. Cioè, non è un film di paura, secondo me. Horror. Da considerarsi horror. È bello perché c'è una storia. Quindi, mi è piaciuto. Mi è piaciuto Carrie. Io sono un'amante dell'horror in generale, quindi... Mi è piaciuto tantissimo. Telefilm... Non è che li ho seguiti. Poi, sette. Cibo preferito del mese. Per quanto riguarda il cibo, è sempre difficile perché amo tutto. Cioè, il cibo lo amo in generale. Però mi è piaciuto tantissimo questo mese. L'offerta del McDonald's. Che i McDonald's ogni settimana avevano un panino in edizione limitata riguardante qualche parte dell'America. La regione, il California, queste cose qui. Io ho assaggiato due di questi panini. Il California ed era veramente molto buono. Ma quello che mi piaceva più, l'ultimo passaggiato, è l'Arizona con i nachos. Con i tacos all'interno, i nachos. Con le patatine, quelle tipiche triangolari. Buonissimo, davvero buono. C'era anche il salame, salsa a formaggio piccante. Era buonissimo. Godore, è una bomba da concedersi una volta nella vita. Così. Poi, l'otto, l'ultima, lo gnocco del mese. Questa è la nostra categoria preferita. Beh, ho visto che è iniziato una nuova serie tv. Non una nuova serie tv. Vabbè, per lui è nuova. Per questo attore che è protagonista adesso in questa serie. Il commissario Rex. Chi di voi lo segue? Io non l'ho mai seguito in vita mia. Ma ho seguito un po' della puntata solo perché c'era un attore. Hanno cambiato l'altro di vota con il miste. C'è lui. Francesco Arca. Per me Francesco Arca è un ognocco. Buono, un buon ognocco. Quindi spero, ragazze, che abbiate apprezzato l'ognocco del mese. Un bacione, ragazze. Fatemi sapere le vostre. Magari la vostra su qualche categoria in particolare. Un bacio, ragazze. Alla prossima e ciao Ilaria.